Ciao ragazze e ciao ragazzi oggi video di recensione chiedo scusa per l'assenza abbastanza prolungata in quest'ultimo periodo ma ho avuto abbastanza da fare per quanto riguarda il lavoro lavoro solo 4 ore al giorno però quando sono organizzate a metà giornata quindi né di mattina né di pomeriggio ma che mi spacchettano la giornata mi è più difficile poi ritagliare i miei momenti da dedicare alle cose che mi piacciono tra cui dedicarne il mio canale comunque ritorno con un video recensione di 5 prodotti se riesco e ho un altro po' di tempo dopo ne registro qualcun altro primo prodotto di cui voglio parlare è una matita occhi mi avevo già accennato in un video trucco o mi preparo con voi non ricordo comunque è questa matita della Idea Bellezza Cosmetics nella numerazione 02 matita occhi deep black vediamo se c'è scritto qualche altra cosa no ma neanche grammi 24 mesi dall'apertura no, neanche grammi vabbè ovviamente è stata già utilizzata più volte perché non è così corta ma è una classica matita questo è la matita in sé e questo è il tratto come potete vedere è molto nera molto bella veramente è un nero nero forte e di per sé vista così mi verrebbe da dire wow la matita della vita perché nerissima scrivente al primo momento ha tutte le carte in regola per essere la matita della vita ma ma c'è sempre un ma nella vita la tenuta all'interno dell'occhio è pessima dopo neanche mezz'ora è praticamente colata ovunque colla all'angolo interno colla all'angolo esterno si trascina nelle varie rughettine che uno ha nella parte sotto dell'occhio e il fatto che come scrivenza sia ottima ma poi non mi dura anche trattenuta con un ombretto me la fa odiare a prescindere come eyeliner sulla rima sulla rima superiore si asciuga molto più facilmente che nella parte di sotto per il fatto che comunque l'occhio ha un calore differente tra sopra e sotto all'interno eccetera l'unica cosa che va a sparire è la linguetta però ho notato che non stampa il tratto sopra anche se io quelle poche volte che l'ho utilizzata come liner sia palpebra nuda che meno ho messo un po' di cipria ho tappettato un po' di cipria per evitare ovviamente lo stampo ma comunque non si è stampata la sfumabilità è perfetta per fare gli smokey eye guardate qua sfuma tantissimo sfuma benissimo veramente molto semplice anche ora che l'ho iniziata a sfumare dopo un paio di minuti o quando l'ho tratteggiata potete vedere che il tratto viene sfumato bene e quindi è ottima per gli smokey eye per creare la base colorata sulla quale puoi andare a costruire il trucco ed è poi morbidissima direi che non è proprio una matita da rima interna ma neanche da rima sotto esterna sotto direi ma è più un prodotto base per costruire uno smokey comunque la finirò prima o poi secondo prodotto di cui voglio parlare è questo smalto della wet and wild è un semplice trasparente si chiama la linea wild shine nel color sono 12.3 ml questo è il colore clear può essere sì credo di sì allora questo smalto ovviamente l'ho utilizzato stavo morendo sia da solo sia come base sia come top che come colla per i glitter ho fatto veramente diversi utilizzi l'asciugabilità l'asciugatura è rapidissima non vi ho fatto vedere il pennellino non sono più abituata a registrare il pennellino è di quelli classici tondi niente di particolare e il prodotto è molto liquidoso all'interno non so se si riesce a vedere veramente liquido 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 quindi anche utilizzato come base meglio metterne due passate che è troppo liquido comunque asciugatura rapida effetto lucido per due giorni quando poi si spella quindi da solo non può essere utilizzato perché dopo due giorni inizia a spellarsi e prima se ne va l'effetto lucido e poi si spella veramente a un certo punto sembra togliere via una cipolla però come base in due passate è perfetta non lascia passare nessun tipo di colore neanche quelli più ostici quali possono essere il nero il blu il rosso il viola scuro quindi come base mi è piaciuto tantissimo altro prodotto di cui voglio parlare è il regalo che gli ha fatto mia sorella a Natale si avrei voluto fare un video a parte su questo prodotto ma alla fine quello che ho da dire è solo meraviglie quindi non lo so alla fine è preferito metterlo in questo video il prodotto è questo olio secco prezioso della Nuxe in italiano perché non vorrei fare figure di cacca a pronunciarlo in inglese o in francese un attimino è una confezione da 50 ml un attimo che ricerco in italiano olio secco multifunzione viso, corpo e capelli nutri, ripara sublima tutti i tipi di pelle senza oli minerali e senza siliconi ha un profumo divino ha questa confezione che ricorda un po' dopo barba maschili tipo quelli che usava il mio papà qualche anno fa quindi come confezione mi piace tantissimo è anche bella così da tenere sulla propria tavola da trucco in bagno o comunque sposta io la tengo diciamo lì nei gradini bianchi vediamo se il foglietto illustrativo ci dà altre indicazioni in merito allora dal profumo mitico e dalla texture texture in olio secco ma come hanno tradotto vabbè si arricchisce di olio e di stabuchi altamente nutriente non so cosa sia con un unico gesto la pelle è nutrita liscia uniformata e sublimata i capelli soffici e brillanti ok io ho un prodotto che utilizzo in prevalenza sui capelli in fase post shampoo e prima di asciugarli tampono i capelli e metto 3-4 gocce solo sulle punte perché le ho abbastanza disidratate e questo tipo di utilizzo lo faccio specialmente quando nello shampoo precedente ho messo la schiuma per fare i capelli più mossi ovviamente la schiuma va a seccarmi il capello e questo tipo di prodotto mi aiuta a restituire un po' di idratazione alle punte un pochino disastrate poi mi piace tantissimo post maschere scrub del viso settimanale invece della crema idratante qualche gocciolina sulla pelle sempre umida vado a fare i massaggini invece di usare una crema idratante del viso del contorno occhi o delle labbra utilizzo solo lei mi piace anche come nutri cuticole nutri unghie anche se questo utilizzo diciamo che dell'ultimi ultima settimanella quindi non posso ancora parlarne approfonditamente e come potete vedere dalla confezione io questo lo sto usando da gennaio cioè da quando mia sorella me l'ha regalato per natale e ora siamo a maggio e lo uso più e più volte durante la settimana il prodotto è ancora tutto qui comunque bastano poche gocce ora me ne faccio scendere una ecco qua questo è uno swatch inutile ma va bene ne approfitto e mi strucco la matita oh si può utilizzare anche come strucco però ora ho la mano nera fa zotto ho fatto una gagata comunque veramente mi piace tantissimo e lascia un profumo veramente buono mi piace da impazzire ogni tanto lo vado e lo sniffo e sono contenta ho anche struccato la mano e l'ho anche idratata comunque è veramente un olio bellissimo prezioso so che hanno un costo ma li merita tutti altro prodotto di cui voglio parlare è un prodotto di make up classico è un mascara mascara della Rougi Rougi dovrebbe pronunciarsi sì sì Miss Etual 3D Black Volume vediamo se c'è scritto qualche altra cosa dietro no 12.5 ml lo scovolino è formato da tre pallottole tipo lo Givenchy a un certo punto uscì con le tre pallottole non mi ricordo classico profumo da mascara è un mascara nerissimo bellissimo alla prima stesura fa un sacco di volume e apre anche lo sguardo se ovviamente si fa stratificare l'effetto volume viene amplificato ma ha un contro molto 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 peck nel senso peccaminoso nel senso che non mi piace nel senso no mamma mia scusate sono abbastanza agitata oggi comunque se si effettuano più e più stratificazioni direi già dalla terza in poi dopo neanche un'ora tutti i pezzettini neri qua sullo zigomo quindi si 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 sgretola mi piace tantissimo accompagnato con il mascara top coat volume di essence se mi ricordo vi lascio la recensione giù nell'info box messo quello sopra due strati di questo ho ancora più effetto volume non rischio lo sgretolos quindi non si sgretola perché viene abbastanza fissato dall'altro mascara e l'effetto è veramente di volume mi piace tantissimo buono ultimo prodotto di cui voglio ah un'altra cosa di difficile struccaggio puntualmente io mi strucco con le saldette all'acqua micellare ne uso diverse puntualmente ho difficoltà a struccare le ciglia inferiori quindi poi devo andare con il cotton fioc imbevuto di acqua micellare o comunque detergente a struccarle perfettamente altrimenti mi ritrovo tutta macchiata ultimo prodotto di cui voglio parlare è questa provina di Vichy si chiama Lefty Act Retinol A Occhi è una crema contorno occhi andiamo in italiano trattamento rinnovatore globale antirughe ipoallergenico è un prodotto molto molto pastoso probabilmente non adatto ancora al mio contorno perché voglio dire che sono fresca come una rosa ma sicuramente non ce l'ho disidratato a me tante volte basta veramente un prodotto leggero idratante per non sentirmi appesantita e non sentirmi neanche tirare il contorno occhi la cosa che ho notato è che durante l'utilizzo di questo piccolo campioncino che mi è durato comunque una settimana avevo la palpebra forse leggermente più distesa forse mi sono fatta anche portare dall'emozione di provare un prodotto così però io ho avuto questa sensazione non so se è veritiera o meno però ho sentito veramente mi sono non lo so se era un effetto placebo capito una mia quello che io volevo vedere quindi lo vedevo non so come si dica in termini psicologici però io vedevo veramente un pochino più spianato il contorno comunque per ora video recensione finito ora vedo se riesco a registrare un altro video nel frattempo vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazze ciao ragazzi in gamba